Salario minimo di 9 euro all'ora, finanziamento del Fondo Nazionale Affitti, l'immediato stanziamento del Fondo di Sviluppo e Coesione, aumento degli investimenti nell'edilizia studentesca pubblica e delle borse di studio. Sono le battaglie del PD che ha organizzato una raccolta firme per le quattro proposte che animeranno l'estate militante del Partito Democratico in Puglia. L'estate militante parte anche in Puglia dopo aver presentato tante emozioni nei comuni pugliesi per rivendicare i diritti per i cittadini soprattutto più poveri sul Fondo Affitti. Sull'FSC, sull'autonomia differenziata, da oggi parte, come deciso dall'Assemblea regionale, una quattro raccolte firme che faremo nelle spiagge, nei mercati nel mese di agosto e nel mese di settembre. È un'estate militante vera con la nostra base che sta partecipando attivamente perché vogliamo rivendicare risorse per le fasce più deboli, soprattutto vogliamo rivendicare le risorse che spettano al sud, che qualcuno meridionale in questo momento sta togliendo alle regioni meridionali che rischiano di non poter utilizzare le risorse come hanno fatto negli anni scorsi. Il problema non è slittare la decisione su un qualcosa che peraltro non costerebbe nulla per le casse dello Stato ma avvia un percorso che entrerebbe in vigore tra più di un anno, è dare una risposta, un senso compiuto di marcia per cui quei 3 milioni di lavoratori che oggi hanno un guadagno pur lavorando al di sotto di quello che dovrebbe essere, è un problema che lo Stato si prende cura, si fa a carico. 1 su 4 nel mezzogiorno d'Italia non può fare questo. Presente è anche il parlamentare Marco Lacarra, molto duro nei confronti del ministro per gli affari europei Raffaele Fitto, che proprio nelle ultime ore ha proposto una revisione da 16 miliardi di euro che coinvolge 144 misure contenute nel piano nazionale di ripresa e resilienza. Sono i dati che parlano e è chiaro che il cattivo pensiero viene, cioè per quale ragione Fitto invece di tutelare la sua regione invece sottrae i fondi alla stessa. Non solo, ma noi insomma siamo in attesa da un anno ormai e questo governo non si può dire sia appena insediato. Sono passati 10 mesi dall'insediamento e noi siamo ancora in attesa in Puglia di capire come potremo utilizzare e se potremo utilizzare queste risorse. E certamente Fitto fino ad ora tutto ha fatto tranne che dimostrare di essere un pugliese. Io so per certo che in questo momento noi non abbiamo la possibilità di utilizzare i fondi FSC, non abbiamo al momento, lo stato attuale, la possibilità di capire al mezzogiorno se davvero arriverà il 40% del PNR. Di certo è che un ministro meridionale in questo momento sta svendendo la propria dignità al nord del Paese e ad interessi che non riguardano i meridionali. Lo ripeto, ci sarà una battaglia sia a livello di amministrazioni che sia una battaglia a livello politico perché noi abbiamo tutto l'interesse a tutelare le nostre comunità. Noi facciamo politica di servizio, di responsabilità per le nostre comunità. Noi facciamo politica! Noi facciamo politica! Noi facciamo politica! Grazie.